Paolo Ferrara, l'Avis è di nuovo in campo con il progetto La Salute Vien Mangiando. In che cosa consiste? Il progetto La Salute Vien Mangiando è un progetto legato alla mission associativa Avis nella promozione della buona salute e dei buoni stili di vita. Abbiamo già promosso le attività sportive, come per esempio, come ricordate, l'attività dei camminatori e in tal senso, oltre alle attività sportive, promuoviamo anche la buona alimentazione. Abbiamo attivato infatti una promozione con quattro panifici di Sciacca per fornire ai nostri donatori un coupon per la fornitura di prodotti da forno, proprio perché, come abbiamo più volte rimarcato, la buona salute non passa soltanto dalle attività sportive ma anche dalla buona alimentazione, quindi buona alimentazione, sport e donazioni di sangue. Fino a quando durerà il progetto? Entro il 31 dicembre di quest'anno. Quindi la gente basta che venga a donare, riceverà il coupon e potrà spenderli in quattro panifici di Sciacca? In quattro panifici con cui siamo convenzionati. Donazione, coupon e prodotto da forno.